Una giovane vita spezzata lungo la E78, un incidente mortale, una ragazza alla guida della sua auto, una ragazza di appena 27 anni, ha perso il controllo e purtroppo è deceduta sul colpo. Questa arteria, che doveva diventare un tratto della Due Mare e che ormai non lo diventerà più, oggi è una sorta di raccordo tra la Valdichiana e il capoluogo. Anas, infatti, nel dare la notizia del tragico incidente, la denomina strada statale 680 San Zeno-Monte-Sanzavino. Intorno alle 6.15 la ragazza viaggiava in direzione di Arezzo, alla guida di una Fiat Punto Blu. Improvvisamente ha perso il controllo dell'auto al chilometro 14.7, tra l'uscita di Pieve al Toppo e Ripa di Olmo. L'auto è uscita di strada e si è schiantata contro gli alberi che costeggiano la carreggiata. La giovane, residente a Subiano, ha riportato ferite gravissime. I sanitari, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica, hanno attivato tutte le procedure per rianimare la giovane, ma non è bastato, la 27enne è deceduta sul posto. Sono intervenuti anche i vigi del fuoco per i rilievi di legge e la polizia stradale. Sulle cause stanno indagando gli inquirenti, pare siano state anche cercate tracce di animali selvatici. La zona non è nuova da attraversamenti di caprioli o altri animali, ma la ricerca non avrebbe dato esito positivo. Non si sa, quindi, cosa abbia fatto perdere il controllo dell'auto alla giovane. Di sicuro l'impatto con la vegetazione è stato violentissimo. La strada è rimasta chiusa per due ore, causando importanti intasamenti anche nella viabilità alternativa.